Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Come state? Spero tutto bene, spero che abbiate passato un bellissimo weekend Come avete ben visto, negli scorsi giorni saranno usciti dei video veramente spettacolari Quest'oggi cosa faremo? Nello scorso episodio vi avevo chiesto di dare un nome al mio cane E ho scelto tre nomi che sono quelli che mi sono piaciuti più E voi tramite i commenti dovrete dirmi appunto qual è il nome Diciamo che diventerà il top Io metterò tre commenti quando uscirà questo video E voi dovrete appunto votare con il pollice appunto il commento Con il nome che secondo voi è il migliore per il cane Oltretutto qua ho finito tutto Ah aspetta aspetta mi serve un'accetta, dov'è la mia accetta? Io avevo un'accetta, vabbè lo faccio con le mani Ho finito il tetto e ho messo anche il vetro quindi tanta tanta roba Il cane si chiamerà Chuck, Lucky ed Oscar Voi nei commenti appunto troverete i miei tre commenti con i tre nomi E voi dovrete votare con il pollice in su appunto qual è il migliore Oppure commentate o datemi altre opzioni Mi raccomando però questo video fatelo arrivare a più di 1500 like Oltretutto voglio proporvi una cosa Se questo video arriva a 3000 like Cioè guardate il mio mino Steve Guardate il mio mino Farò una nuova serie che sarà una hardcore in live Che durerà 30 minuti ogni live E lascerò appunto caricata sul canale In cui non ci saranno tagli né nulla Giocherò in streaming a Minecraft hardcore Così se muoio succede tutto Non potete vedere che citto o queste cose strane Quindi sarà una serie incentrata sul sopravviore E cercare di ammazzare l'ender dragon Quello sarebbe lo scopo ultimo Spero di farcela in 10 episodi Quindi 10 streaming E le farò una volta a settimana Magari o il sabato o la domenica Che sono due giorni in cui bene o male sono tutti a casa Tornando a noi Allora Prima di tutto ho scoperto che per il collare serve il colorante Io colorante non credo di averne E no Però voglio cambiare il colore Si 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 caro mio Lo voglio di un colore carino Allora laggiù c'è un buffo Che deve andare all'altro mondo E noi lo spediamo subito Bravissimo Guarda quanto sei Oh oh Sono troppo forte per te Troppo forte Troppo forte Mamma mia L'ho devastato Oh mio dio Quello è per l'arancione? Dimmi di si Si Lo voglio col collare arancione Regà Collare arancione Aggiudicato Oh Aspetta un momento Io voglio il letto arancione Noi non ci siamo capiti Da adesso in poi Sarebbe carino creare una bacheca degli iscritti Quindi da adesso in poi Diciamo diamo via alla bacheca degli iscritti Adesso la costruirò proprio in una cosa molto veloce Tipo delle scale Un pezzo di legno fine Quella sarà la bacheca Dobbiamo fare un sacco di cose in questo episodio Letto arancione Colorare il collare del cane arancione Far la bacheca E prendere del cibo Allora cibo dovrei averne qualche cosa No niente Ma che cos'è sta storia Allora colorante Ma va che figo Allora vieni con me Andiamo in giro Ragazzi Continuiamo a mettere Prendere un po' di cose Che ci serve per mangiare Quali carote non mi interessano Ok Questo l'abbiamo fatto Letto Ci serve della lana Lana bianca Da trasformare in arancione Pecurella Aspetta Prima di far sta cagata Io ho del ferro Ti porto con me E diventerai una forbice Cioè in realtà è una cesoia Una volta si chiamava forbice Non so perché hanno cambiato il nome Adesso si chiama cesoia Per una volta Appunto il nome Su minecraft della cesoia Era forbice Ok Due Me ne serve ancora uno Dammi un amichetto frizz Eccolo laggiù Potrei fare anche una farm In questi episodi Una farm velocissima di pecore Cioè una farm Almeno un recinto Un allevamento Cioè Un allevamento di pecore Ci starebbe Starebbe meglio di mucca Però vabbè pazienza Poi Appunto Facciamo uno di questi Tac 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 E Tac Legno Sì Abbiamo letto arancione Ragazzi Oh mio dio Sono contentissimo Oh è tornato il mio letto arancione Mi sento bene con me stesso Perché l'arancione Non so se voi lo sapete È il mio colore preferito Quindi Se fate delle Fan art su instagram Magari di questa nuova serie Che mi farebbe veramente piacere Vi metto like E vi commento Ragazzi Fatemele Con il colore arancione Perché io amo il colore arancione È bellissimo Davvero Non c'è colore migliore al mondo Dato che La bacheca Deve essere una cosa Un pelo più in alto Io devo prendere un sacco di terra La mettiamo in direzione Verso di là Quindi verso il fiume E dobbiamo rialzarlo tutto Allora Facciamo così Facciamo lì prima di tutto Un perimetro Ok Questo è il perimetro Che noi andremo a fare Ci serve molta più Terra Quindi vado a prendere un po' di terra E poi ci vediamo Lì mentre faccio il perimetro E appunto Creo Quello che sarà Il piccolo altare Dove ci sarà la bacheca Degli iscritti Ovviamente ragazzi La bacheca Degli iscritti funziona Con hashtag Caschetto Voi mi dite Che cosa appunto Devo costruire nella mia vanilla E io lo faccio senza problemi Quello che ho in mente ragazzi È costruire un sentiero Che appunto Vada alla bacheca Perché con i sentieri È tutto più bello Intanto andiamo a dormire Perché sta già calando il sole Che è laggiù Ok Da quella parte Se ne sta andando il sole No perché Oltretutto mi si è rotta la paletta Quindi la dobbiamo rifare E dato che ci sono La faccia appunto In ferro Che è molto 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 meglio Eh sì Ok Andiamo a dormire E poi iniziamo a costruire La bacheca E poi potremmo fare anche un allevamento Che ci starebbe un sacco Facciamo Se cartelli Per adesso Uno lo mettiamo Che ci serve per scrivere Bacheca Degli iscritti Degli iscritti Eccetera eccetera La struttura la metto Un pelo più in là di uno Mi serve però Un'accetta Perché non ho un'accetta Ho della pietra Ho della pietra Uno, due, tre, quattro Aspettiamo che lì diventi verde E poi appunto Mettiamo i blocchi Ok Dove noi metteremo Appunto La nostra bacheca Uno punto zero Perché appunto Ci sarà la due punto zero Poi una tre punto zero Eccetera eccetera Però è troppo in basso Devo metterlo più in alto Perché mi triggerà troppo Allora Rimetti di qua Uno punto zero Oh Già mi piace di più Noi andremo di qua E appunto Ci sarà la nostra bacheca Delle cose Mi sa che dovremmo andare A prendere un pelo Più di materiali Perché appunto Mi serve Fare l'allevamento Di qualche strano animale Tipo pecore Che mi piacerebbe E da qua in poi Ci saranno appunto I vostri progetti Quindi con Asta caschetto Ditemi appunto I vostri progetti Quello con più like Verrà fatto appunto Nel prossimo episodio Della vanilla Quindi datevi da fare Li leggerò Quando uscirà questo video Quindi lunedì Io sto registrando questo video In realtà Mercoledì 6 settembre Per farvi capire Quanto sono avanti Che bravo Cilio che bravo Allora Mi serve fare Una warbench Da mettere vicino La bacheca Perché ci sta A avere delle warbench In giro Che è molto molto bello Qua mettiamo la warbench Facciamo le scale Che avevo detto Ok 4 e 1 e 2 Perfetto Non so se farla stradina qua Sì? No? Sì dai facciamola È figo mettere la stradina Oh che bella la stradina Poi la metteremo anche in qua Che andrà avanti La nostra stradone Facciamo di 3 Ok E tutto il resto Sarà fatto in pietra Sì Mi piace un sacco Mettere le scale in pietra Molto molto bene Una bella idea È stata a Cile Bravissimo Così ogni volta che devo fare Delle discese e salite Troviamo queste scale E poi il sentiero principale Che è una cosa bella Molto bene Top Questa è la bacheca fatta Lo so Magari potrei metterci un contornino Non lo so Lo faccio? Così dai è più carino Ammetto che è molto più carino Così Ditemi se vi piace Poi metteremo appunto Man mano i vostri cartelli Iniziando da Boh dal centro E poi inizierò a metterli Un po' a spirale Cane Come stai? Dai vieni Andiamo a farci un giro Dobbiamo fare appunto L'allevamento Il primo allevamento Lo metteremo qua Molto vicino appunto Alla nostra bacheca Ho un'idea Allora Vicino al villaggio E alla nostra prima casetta E bacheca Metteremo gli allevamenti Più in là Dalla facciata della casa Dove ci sono più finestre Lì costruiremo Le strutture più grandi Che possono essere Che ne so Dei magazzini Che possono essere Che ne so Le torri di guardia Fare dei laghetti O altre cose Che si possono servire Ovviamente questo Me lo direte voi Sotto Nei commenti Ovviamente Finiamo allora Di fare quest'ultima cosa Quindi dobbiamo fare La staccionata Dobbiamo fare ancora un po' Di staccionate Perché si mi servono Ok 27 dovrebbero bastare Primo allevamento Lo faremo qua all'interno E lo faremo Di appunto Pecore Ho deciso Perché L'animale più vicino È il primo che ho visto Perfetto Devo mangiare Cavolacci a me Questa cosa del mangiare Mi sta stufando Perché devo mangiare? Allora mangiamo i due pannini Che ne abbiamo bisogno E iniziamo a prendere Appunto le nostre pecorelle Però ci servono i semi Che io ho messo via Vieni qua Allora Allora abbiamo chiuso il recinto Qua apriamo E adesso andiamo a prendere Le nostre pecore Pecore Dove siete Pecore La pecora non è attratta da questo No mi sento male No è attratta dal grano No voglio esplodere Cane devi metterti qua Perché io so che il cane E le pecore Sono nemici naturali Quindi voglio evitare Di fare un casino Allora quel grano Mi serve Vieni qua Bravissimo E metto i semi Al loro posto Tac Ok Perché bisogna sempre coltivare E quando si distrugge una cosa Almeno cercare di aggiustare Brava pecora Dai Continua Continua Vai così Vai così Due pecore Possiamo iniziare il nostro allevamento Ragazzi Finalmente Allora Iniziamo subito Ma proprio subito Subitissimo Dov'è Di qua Ok Uno due Così ci da il primo figliolino Che carino Venite qua Pecore Oh Creature Vai Filiate E datemi un pargolo Per favore Grandissimi Progresso compiuto Eh Volevi uscire Volevi Ragazzi Per questo episodio Dato 20craft È tutto Mi raccomando Voglio un sacco di pollici in su Che a 2000 iniziamo la nuova serie In streaming Ogni sabato Domenica Adesso vediamo di metterci d'accordo E sarà una hardcore E oltretutto Consigliatemi con hashtag Aschietto I vostri progetti Per la mia vanilla Che metterò appunto Sulla bacchecca Nel prossimo episodio Che uscirà Mercoledì prossimo Alle 14.30 Dato 20 Di tutto Vi ringrazio ancora una volta Iscrivetevi se siete nuovi Tutti i social In descrizione come Instagram Facebook Eccetera Eccetera Chi ne ha più ne metta E nulla Da tutti Ci vedete Ciao a tutti Bye